Le avventure di Pinocchio, capitolo diciannovesimo. Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per gastigo si busca quattro mesi di prigione. Il burattino, ritornato in città, cominciò a contare i minuti ad uno ad uno e quando gli parve che fosse l'ora, riprese subito la strada che menava il campo dei miracoli e mentre camminava con passo frettoloso il cuore gli batteva forte e gli faceva tic tac tic tac come un orologio tassale quando corre davvero e intanto pensava dentro di sé e se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila e se invece di duemila ne trovassi cinquemila e se invece di cinquemila ne trovassi centomila. Oh che bel signore allora che diventerei! Vorrei avere un bel palazzo, mille cavallini di legno e mille scuderie per potermi baloccare, una cantina di rosoli e di alchermese e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panettoni, di mandorlati e di cialdoni con la panna! Così fantasticando giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete ma non vide nulla. Fece altri cento passi in avanti e nulla. Entrò sul campo, andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla. Allora diventò pensieroso e dimenticando le regole del galateo e della buona creanza tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo. Cric cracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracrC逞e. In quel mentre sentì fischiarsi negli orecchi una gran risata. Voltandosi in su vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso. — Perchè ridi? Gli domandò Pinocchio con voce di bizza. — Rido? Perché nello spollinarmi? Mi sono fatto il solletico... sotto le ali il burattino non rispose andò la gora e riempita d'acqua la solita ciabatta si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro quando ecco che un'altra risata anche più impertinente della prima si fece sentire nella solita silenziosa solitudine di quel campo insomma gridò pinocchio arrabbiandosi si può sapere pappagallo maleducato di che cosa ridi rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano intrappolare da chi è più furbo di loro parli forse di me sì parlo di te povero pinocchio di te che sei così dolce di sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi come si seminano i fagioli e le zucche anch'io l'ho creduto una volta e oggi me ne porto le pene oggi ma troppo tardi mi son dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro o delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa non ti capisco disse il burattino che già cominciava a tremare dalla paura pazienza mi spiegherò meglio soggiunse il pappagallo sappi dunque che mentre tu eri in città la volpe il gatto son tornati in questo campo hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento e ora chi li raggiunge è bravo pinocchio restò a bocca aperta e non volendo credere alle parole del pappagallo cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato e scava 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 fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per retto un pagliaio ma le monete non c'erano più preso allora dalla disperazione tornò di corsa in città e andò difilato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla un vecchio scimmione rispettabile per la sua gravità per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri che era costretto portare continuamente a motivo d'una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni pinocchio alla presenza del giudice raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima dette il nome il cognome i connotati dei malandrini e finì chiedendo giustizia 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 il giudice lo ascoltò con molta benignità prese vivissima parte al racconto si intenerì si commosse e quando il burattino non ebbe più nulla da dire allungò la mano e suonò il campanello a quella scampanellata comparvero subito due can mastini vestiti da giandarmi allora il giudice accennando pinocchio ai giandarmi disse loro quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione in prigione in prigione il burattino sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo rimase di princi sbecco e voleva protestare ma i giandarmi a scanso di perdi tempi inutili gli tapparono la bocca e lo condussero in buia e lì vebbe a rimanere quattro mesi quattro lunghissimi mesi e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di acchiappacitrulli avendo riportato una bella vittoria contro i suoi nemici ordinò grandi feste pubbliche luminarie fuochi artificiali corse di barberi e di velocipedi e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte anche le carceri e mandati fuori tutti i malandrini se escono di prigione gli altri voglio uscire anch'io disse pinocchio al carceriere voi no rispose il carceriere perché voi non siete del bel numero domando scusa replicò pinocchio sono un malandrino anch'io in questo caso avete mille ragioni disse il carceriere elevandosi il berretto rispettosamente salutandolo gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare grazie mille Grazie.